Musica Quando siamo in bicicletta ricordiamoci di stare in fila indiana, cioè uno dietro l'altro, mantenendo la dovuta distanza di sicurezza. L'uso del cellulare non è consentito nemmeno in bicicletta. Se dovesse suonarci scendiamo dalla bicicletta e rispondiamo. Musica Doppio errore! Siamo passati in bicicletta sul passaggio pedonale e in senso contrario a quello di marcia. Attenzione! Questa cosa non si fa! Musica 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 Nel verde pubblico non si va in bicicletta! Musica E non si può nemmeno zigzagare con la bicicletta in mezzo alle panchine! Esatto! E quando vediamo del nastro bicolore bianco e rosso che delimita lavori in corso, non si passa! Ma è le biciclette che non hanno le frecce? Usiamo le braccia! Braccio destro o sinistro per indicare la direzione in cui vogliamo svoltare! Musica 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 Grazie a tutti.